Possibili disagi in vista nel servizio di raccoltare i fiuti porta a porta a causa dello sciopero nazionale indetto dall'USB di categoria per la mattinata di venerdì 22 maggio. I lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private del settore igiene ambientale potranno incrociare le braccia per due ore per il territorio dell'Alto Vicentino e di servizi interesseranno i comuni di Marano Vicentino, Breganze, Schio, Cunicarlo e Lava, Alto Vicentino Ambiente. Il servizio ordinario in programma nelle mattinate del venerdì potrebbe dunque subire limitazioni. In caso di marcata raccolta entro le 12.30 l'azienda che gestisce raccolta e smaltimento rifiuti per conto di 31 comuni dell'Alto Vicentino invita gli utenti a ritirare i sacchetti e esporli in un'altra giornata. Tutte le informazioni dettagliate sul servizio attivo sono disponibili sul sito internet di Alto Vicentino Ambiente.